Gianluigi Magaglio, un'altra giornata di festa al Contubernio d'Albertis, un Open Day con tanti ragazzi, tante famiglie e anche l'onore di una visita speciale, quella del sindaco Marco Bucci, degli assessori Pietro Picciocchi del comune e l'area cavo della regione, insomma davvero tante attestazioni di stima per questa struttura che continua a crescere. Sì, devo dire sempre con emozione che il giorno dell'Open Day e il tempo ci ha aiutato, è un qualcosa di importante e bello per noi. Oggi la visita del sindaco è già la terza, no forse la quarta volta che viene a trovarci insieme all'assessore Cavo, è ancora più uno stimolo per far bene, per cercare di venire sempre incontro più alle esigenze delle famiglie e dei bambini. Quest'anno attiveremo la seconda classe di prima media, il prossimo anno per noi è un'ulteriore soddisfazione e raggiungeremo i 680-690 bambini. C'è da lavorare, c'è da fare tanto, però il mio applauso va sempre a tutto il corpo docente dell'istituto, alle maestre, alle educatrici, a tutto il personale che con impegno e passione fa sì che questa realtà, oggi, il prossimo anno compieremo 158 anni di vita, possa andare avanti bene a servizio delle famiglie. Anche in una giornata come questa dedicata alle famiglie e ai bambini abbiamo voluto mantenere gli spazi sportivi, c'è lo spazio dell'atletica, del taekwondo nel pomeriggio con l'anterna taekwondo Genova e lo spazio dell'hip hop e della ginnastica ritmica, è un modo per dire una sinergia scuola-sport e in questo tu sei, voi siete maestri, è qualcosa che sicuramente aiuta i bambini a crescere bene. La ricchezza educativa alla Conto Venno è proprio questa, dallo sport alla robotica, passando per le lingue, per tante esperienze, tanti laboratori e questo insomma sta premiando il vostro lavoro con numeri in crescita, ma anche la voglia di continuare a migliorare e di ampliare gli spazi, è il caso del nido con investimenti importanti che stanno per portarvi a ulteriori 250 metri quadri di struttura davvero bellissima. Sono ripartiti i lavori, contiamo nell'arco di quattro mesi di completarli, saranno nuovi spazi per i bambini più piccoli, quindi servizio di asilo nido e di sezione primavera. I tecnici che lavorano per l'istituto si impegnano per far sì che i tempi possano essere rispettati e fare in modo che per il prossimo anno scolastico, quindi per il 2020-2021, qua in Via Marena, ci possano essere nuovi spazi a disposizione dei bambini. Il contubernio, è importante dirlo, ho detto prima, i 158 anni di vita è sempre stato come base qui a San Fruttuoso, sulla collina dove Monsignor D'Alberti si ha lasciato questa splendida villa e i nuovi lavori che abbiamo portato avanti dimostrano che guardiamo al 2050 e un po' più in là nel modo migliore possibile. Questo Open Day molto partecipato è stata la prima occasione anche per far conoscere la struttura a chi vuole curiosare, ma ci sono ovviamente poi tanti mezzi, il contubernio è anche molto attivo sul web, sui social, quindi come conoscere la vostra offerta? La nostra offerta ormai è variegata, abbiamo una pagina Facebook, apriremo il sito internet fra breve, abbiamo una pagina Twitter e Instagram e poi il contatto diretto che voglio e desidero continuare a mantenere, quindi dove in altri spazi, in altre strutture ormai risponde il centralino e può sembrare una banalità, qui chi chiama lo 010 50 33 06 continua a sentire la risposta di una persona, che sia una persona della segreteria, che sia un insegnante, comunque desidero continuare a mantenere un rapporto umano con le persone. Ringrazio infine tutti i genitori che ci hanno dato fiducia, oggi le persone che vedi, siamo già da quello che mi dicono in segreteria circa 300 famiglie che stanno visitando l'istituto, ci sono tantissime nostre mamme, tantissimi nostri papà che sono venuti a collaborare, abbiamo lo spazio dedicato Chiedilo alle mamme, le mamme che accolgono i nuovi genitori, portano a far vedere l'istituto come fosse casa loro, nel vero senso della parola, a tutte le famiglie va il mio ringraziamento per la fiducia che hanno dato all'istituto e per il passaparola fondamentale che continuano a fare, quindi grazie alle mamme, grazie ai papà e grazie al sindaco, perché siamo sempre felici quando ci viene a trovare. Grazie all'assessore Cavo, devo dire, la regione con le borse di studio regionali e con i voucher ha fatto veramente tanto per tutte le realtà paritarie. Io vengo sempre con piacere in questa scuola perché ogni invito porta un giorno di gioia, di festa e sicuramente di comunità. Questa è una grande famiglia che riesce a insegnare ai ragazzi di ogni età secondo un principio importante che è quello della libertà della scelta per le famiglie tra la scuola pubblica e la scuola paritaria. Siccome crediamo molto nella libertà, non che sia meglio una o l'altra assolutamente, ma nella libertà che le famiglie devono avere di scegliere dove studiare i propri ragazzi, come regione abbiamo sostenuto molto questo principio e lo abbiamo fatto con il sostegno, con le borse di studio per l'iscrizione frequenza che sono quelle che vanno proprio alle famiglie che decidono di iscrivere i ragazzi alla scuola paritaria. Ma l'abbiamo fatto anche per quelli un po' più piccoli, per quelli del NIDOL con il voucher NIDI. È chiaro che mettere insieme queste misure vuol dire indirettamente dare anche un sostegno a una struttura come questa o come le altre, ne abbiamo tante in questa regione che credono in un certo tipo di formazione e che offrono un momento formativo in aula ma anche un momento di grande condivisione delle famiglie. Oggi si aprono, si mettono in mostra dall'asilo NIDO all'elementare e via a crescere con tutti i laboratori che hanno, la pet therapy, l'entusiasmo dei docenti, la capacità di fare anche i corsi di cucina durante le ore, l'iniziativa del contupesto dove noi siamo venuti, dove danno anche un messaggio di genovesità ai ragazzi. Tutto questo vuol dire qualcosa, le famiglie vedono e poi scelgono. Noi ci siamo a sostenerli per tutto quello che è di nostra competenza.